Metropolitana di Salerno ci si avvicina a piccoli passi verso la soluzione della questione. Ieri mattina si è svolto il programmato incontro al Ministero delle Infrastrutture. C'erano i rappresentanti di tutti gli enti coinvolti tranne quelli della regione Campania. Un disguido sorto per un errata comunicazione della data agli uffici regionali. Ieri sera in una nota la regione ha chiarito che per soli motivi tecnici l'ente non era rappresentato nella riunione al Ministero ed ha inoltre precisato che sul nuovo protocollo per la Metropolitana di Salerno gli uffici della regione Campania stanno formulando i pareri necessari e che la prossima settimana gli uffici della Giunta perfezioneranno le eventuali modifiche. La Metropolitana di Salerno conclude la nota della regione e un'opera realizzata e dovrà essere messa in servizio. A Roma in ogni caso è stato siglato un accordo che consentirà da giugno l'avvio degli interventi sul sistema di sicurezza necessari per l'inizio delle corse. Resta il più importante e sostanziale problema delle risorse per la gestione del servizio, risorse che la regione spera di avere in gran parte dal governo. La prossima settimana a Napoli ci sarà in tal senso un incontro decisivo e solo dopo questo appuntamento si potrà ipotizzare quando la Metropolitana di Salerno entrerà in funzione. Secondo il Comune la data resta fissata al novembre 2013. Quanto alle risorse necessarie si va da un minimo di 2 milioni di euro all'anno ad un massimo di 3 in base a due piani messi a punto da Trenitalia. Ieri mattina l'Agenzia della Sicurezza ha presentato la relazione dopo i sopralluoghi effettuati dai tecnici nei giorni scorsi indicando alcuni lavori aggiuntivi. Si parla della costruzione di una cupoletta di sicurezza per la stazione di Mercatello. Al tempo stesso l'Agenzia ha posto la necessità di richiedere ai vigili del fuoco e all'ASL le certificazioni necessarie e l'attivazione degli ascensori per favorire la mobilità delle persone disabili. Interventi sulla sicurezza già finanziati con il Comune di Salerno che ha deliberato l'altro ieri.